San Paolo Stai a fare te? Facci il libro tu. Si è andato per i primi a te. Lito Pamela. Vai! Stai inquadrata? Stai salvato, fammi un po' che non dà l'acqua, basta che non metti la mannaggia l'obiettino. C'est facile. C'est la belle, non? No, si vede bene. Avrei fotografia, non avrei come. Adesso facciamo due foto.